Nel recupero della tredicesima giornata il Pineto vince 0-1 allo stadio, Tamburini contro il Montegiorgio in vantaggio nella prima frazione i Biancazzurri con Minnozzi nella ripresa. Poi non succede più nulla, i Terramani così conquistano la prima vittoria dell'era pomante in attesa di ospitare l'Atletico Porto Sant'Elpidio nel prossimo turno. Calcio d'inizio per i padroni di casa, il Pineto prova a sbloccare la gara. Al settimo Minincleri sceglie il cross Minnozzi dalla sponda opposta, ribadisce il traversone ma Gagliardini si salva in corner. Al quarto d'ora arriva la prima palla, gol rumano, beneficio di un error raccio della difesa di casa ma l'ex Sarremese e Minnozzi non riescono a bucare la retroguardia di Mr. Mengo. Al trentottesimo però si sblocca la gara, Minincleri prolunga in area della quercia, ci crede e serve Minnozzi che trova il varco giusto e sigla il classico gol dell'ex. Nella ripresa ci prova Cuckoo, la conclusione della punta marchigiana si spegne alta. La gara è equilibrata con i marchigiani che provano a recuperare il Pineto Guardingo a ministra. Alla mezz'ora si riaffaccia la squadra bianca-azzurra della quercia, conclusione velenosa ma Gagliardini con un pizzico di affanno blocca. Nel finale prova a mettersi in luce il nuovo entrato Lupoli, Mercorelli a domestica senza problemi. Nel primo dei quattro minuti di recupero, Ficola e Cuckoo vanno vicinissimi al gol del pareggio ma Mercorelli e un pizzico di fortuna salvano il Pineto. La squadra di Pomante potrebbe allungare ma della quercia sceglie l'azione personale concludendo alto. Sul ribaltamento di fronte, sempre il numero 10, si mangia letteralmente la rete dell'1-1 a 2x2 con l'estremo ospite. Non succede più nulla, il Pineto torna alla vittoria che mancava dall'atletico Porto Sant'Elpidio, prossimo avversario dei bianca-azzurri. La vittoria è meritatissima perché oggi sinceramente abbiamo fatto un ottimo primo tempo creando varie occasioni a gol. Abbiamo, sinceramente, il rammarico è quello di aver finito il primo tempo 1-0, però anche il secondo tempo ragazzi mi sono piaciuti perché ci stava che il Montegiorgio alzava un po' il baricentro e noi abbiamo sofferto in modo giusto. Il normale negli ultimi cinque minuti dove ci sono stati più errori di lettura è venuta fuori un po' la paura perché non ci dimentichiamo che questa squadra è tanto tempo che non vinceva, abbiamo passato un momento delicato però come ho detto tu io questa vittoria, questa vittoria i ragazzi se la meritano perché hanno dimostrato veramente il loro valore. Ma quello sempre, io guarda dico che io per l'atteggiamento i ragazzi non possono rimproverare nulla anche nelle partite passate. È normale che nelle altre partite sono stati un po' episodi che ci sono venuti contro. Oggi negli ultimi, ripeto, negli ultimi cinque minuti siamo stati un po' fortunati però per il 90-95% della partita diciamo che abbiamo dominato, abbiamo sofferto però abbiamo sofferto sinceramente senza subire un tri un po' orta tranne negli ultimi cinque minuti. Questa squadra è una squadra che ha dei valori grandi sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista umano e oggi si è visto.